Ciao a tutti! Oggi prepareremo la limonata alla menta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, foglie di menta, limoni pelati a vivo e tagliati a pezzetti, acqua fredda e cubetti di ghiaccio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le foglie di menta e lo zucchero ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i limoni ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere l'acqua ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6. la limonata è pronta a filtrare e servire con i cubetti di ghiaccio. limonata alla menta. Si conserva in frigo per 3 giorni. grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.